Avete visto sui nostri social e sul sito internet che i materiali sono già arrivati a 4Portal dove si svolgeranno nei prossimi giorni la decima missione di Cutter Project, la missione della stella per dare un paragone calcistico e quindi questa è una missione molto importante per noi perché rappresenta un pochettino un primo step della nostra storia, in pochi anni abbiamo raggiunto 10 missioni, tantissimi pazienti operati, molti medici formati e siamo molto contenti. Quest'anno gli artisti che ci hanno sempre accompagnati non ci accompagneranno perché abbiamo deciso di cambiare un attimino il modo di comunicare con voi e farvi partecipare ancora di più a questa missione. Quindi questa missione del 2018 a 4Portal in Uganda sarà caratterizzata dal fatto di adottare un paziente. Voi avrete la possibilità anche da casa, è già stato fatto anche nei giorni scorsi, di poter adottare direttamente una procedura e vedere direttamente il vostro aiuto concreto trasformarsi direttamente lì sul campo in qualche cosa che vedrete direttamente. Quindi cosa succede? Abbiamo preparato 4 tranche, ci sarà una pergamena per ognuno di queste già compilata da una persona che ha già donato con 4 tranche di possibilità di adottare un paziente. Prima tranche è adottare un intervento chirurgico maggiore, ogni paziente che noi operiamo ha un costo medio di 400 euro. Chiunque voglia donare un intervento chirurgico maggiore può ovviamente contattare Lucia al 347 906944 oppure scriverci sul sito internet, alla nostra mail info.qt-project.org e quindi effettuare la donazione tramite bonifico e quindi ricevere la pergamena e vedere direttamente sul campo quello che succederà. Un'altra possibilità minore è l'intervento chirurgico minore, ambulatoriale, quindi anche di questo ne facciamo tantissime perché ci sono molte problematiche di cute, di pelle, di cicatrici che non richiedono un'nessia generale ma delle piccole locali e questo con 200 euro potete donare direttamente questo tipo di intervento chirurgico. Altro tipo di costi che noi possiamo sostenere grazie al nostro aiuto è quello di effettuare una medicazione. Perché questo? Perché la medicazione necessita comunque di materiale e quindi abbiamo identificato una adotta o una medicazione con un costo di 100 euro. In questo modo potrete appunto di nuovo ricevere la pergamena con scritto concretamente quello che avete fatto e faremo un video direttamente del paziente che abbiamo medicato con la vostra aiuta. L'ultima cosa e non meno importante ovviamente per noi è adotta una guaglia rastrocompressiva. Non c'è solo chirurgia in una missione come le nostre ma si parla anche di trattare le cicatrici. Alcuni pazienti non possono venire operati perché le cicatrici sono ancora in fase attiva e allora grazie al gruppo che abbiamo con noi sudafricano, tutte progette sudafrica che lavora proprio su quel tipo di lavoro, voi potete donare queste guaglia rastrocompressive che possono essere per tutto il braccio e per la gamba che hanno lo scopo di ridurre la tensione della cicatrice. Questo tipo di adozione, quindi adotta una guaglia rastrocompressiva, ha un valore di 50 euro. Detto questo io vi saluto, il prossimo video sarà già praticamente all'aeroporto, quindi quando saremo pronti per partire, già con tutto il gruppo che vi presenterò appunto all'aeroporto. Un caro saluto a tutti e mi raccomando adottate un paziente.